quando poi arriveremo alla fine della larghezza delle maniche trovato tutto indicato sopra la mia pagina ovviamente faremo delle diminuzioni e le diminuzioni noi faremo semplicemente degli accavallati anche queste le troverete indicate sopra la mia pagina perché troverete tutto indicato appunto quante farne dove farle a seconda della vostra taglia per fare le diminuzioni noi semplicemente faremo così facciamo degli accavallati quindi faremo un dritto partiamo sempre con un dritto poi se dobbiamo portarci il filo noi continuiamo a fare come abbiamo fatto fino adesso e ovviamente seguiamo anche il motivo che stiamo facendo perché in una taglia può venire in mezzo al traforato può venire sotto quello dipende un po da che punto siete vedete del motivo a me queste diminuzioni mi sono venute su questi tre su questo motivo qua però non è detto come può venire in un punto diverso ci portiamo sempre il nostro secondo colore quindi sulla seconda maglia sempre la accavalliamo comunque sempre sulla seconda in modo che non dia noia sul bordo e facciamo un dritto che poi accavalliamo questa prima maglia poi ancora se ne dovete fare più di uno fate ancora un dritto e un accavallato e poi continuate a lavorare questo sia sul dritto che sul rovescio sul rovescio adesso vi faccio vedere come fare gli accavallati anche sul rovescio comunque il numero di maglie da chiudere lo trovate appunto sullo schema per la seconda della taglia che state realizzando ecco arriviamo fino alla fine del ferro alla fine non facciamo nessuna diminuzione le faremo sempre all'inizio quindi anche all'inizio sempre dove è indicato sul rovescio le faremo in questo modo quindi un rovescio poi facciamo ancora un rovescio e accavalliamo la maglia semplicemente così facciamo semplicemente un rovescio e accavalliamo questa maglia sopra questa quindi questo lo faremo sempre seguendo ovviamente lo schema quindi questi sono gli unici punti diciamo un po diversi dal solito quindi poi qui continuate o a dritto o a rovescio a seconda sempre dello schema che state seguendo perché dovrete ripetere sempre questo schema qua poi se utilizzate un filato diverso avrete più giri quello tanto io vi metto le misure quindi siete liberi di fare come credete ok quando avremo finito le diminuzioni saremo alla fine di un rovescio tagliate tutti e due questi fili qua lasciatevi dei bei codini per potervi aggiustare eventualmente eventuali buchi che vi dovessero venire o insomma comunque per la cuscitura e per aggiustare quindi lasciatevi un codino un pochino lungo e lo tagliate poi su questo ferro mettete le maglie tutte in fondo le stringete tutte in fondo al ferro se avete di circolare ancora meglio perché è più grande e caricate sempre su questo ferro se preferite potete anche metterle su una spilla però io vi consiglio poi da qui in avanti di lavorare tutte le maglie insieme in modo da gestire meglio il cambio di colori perché potete lavorare due pannelli separatamente poi cucire i fianchi ma io se cambiate colore anche voi vi consiglio per semplificare il lavoro di lavorare tutto insieme il corpo dal primo giro del corpo tutto aperto quindi avremo poi alla fine la cuscitura solo su uno su un lato solo quindi sono un lato vi verrà tutto aperto e lavoro col dritto verso di voi sarà tutto un lavoro aperto e alla fine dovremo cucire solo il lato appunto aperto almeno che non iniziate a lavorarlo in circolare che è ancora più semplice quindi vi caricate tutte le maglie sopra questo ferro e le iniziate a lavorare come avete lavorato la prima parte fino qua quando ce l'avete tutta appunto saranno con i due dritti del lavoro verso di voi avrete tutte e due dritti dalla vostra parte le due metà del corpo quindi dal primo giro poi del corpo potete lavorare tutto insieme tutte le maglie insieme quindi sarà il corpo aperto e alla fine dovrete solo uscire il sotto delle maniche e il fianco e le spalle e in questo modo appunto vi potete gestire bene tutti i colori quindi fino alla fine poi trovate nello schema indicato giro giro tutto quello come vengano gestite tutte le maglie vedete l'ultimo giro sarà in questo modo poi ovviamente anche questo dipende da dove finite il filo io vi consiglio appunto di non sprecare filato e cercare di utilizzarlo tutto si può lavorare in circolare il corpo quindi una volta fatto un'altra volta la seconda metà della parte delle maniche da questo punto qui potete lavorarlo o aperto o in circolare sulla mia pagina trovate indicato anche come lavorarlo in circolare ovviamente è semplicissimo perché dovrete semplicemente lavorare al contrario i giri a rovescio di come sono indicati per il lineare quindi è semplicissimo comunque nella mia pagina lo trovate lo schema anche per il per i circolari quindi questo è tutto alla fine appunto ci rimarrà solo da uscire questa parte qua il sotto qui della manica vedete qui io ho uscito così semplicemente con dei puntini con il filato che col codino che mi era avanzato quindi uscite il sopra della manica lo potete fare con una cuscitura invisibile o con qualunque tipo di cuscitura sulla mia pagina trovate indicato quindi vi dico anche quante maglie lasciare per lo scollo per averlo alla più o meno largo però anche qui vi consiglio di mettere due spillette nel punto in cui vi indico io e magari misurarvelo per vedere se vi piace questo scollo così aperto altrimenti lo potete fare più largo o più stretto sotto delle maniche uguale verrà cuscito e poi ci sarà da cucire se non lavorate in circolare uno dei due fianchi uno vi verrà intero e uno sarà da cucire anche questo potete farlo con una cucitura semplicissima e nascondere i fili basta non c'è da fare altro quindi è veramente semplice adesso vi lascio tutte le foto della mia pagina tutte le foto della mia maglia e il link alla mia pagina qui alla fine di questo video trovate il link da cliccare per scaricarvi lo schema spero vi sia piaciuta io la adoro è una maglia semplicissima da fare che poi potete appunto divertirvi a modificare i colori come più vi piace e che è veramente comoda perché è traforata ma poi non è trasparente perché i buchi dove del traforato sono pochi quindi si può portare anche semplicemente con un reggiseno senza dover mettere una cannottierina sotto perché non è trasparente insomma coprente quindi spero vi sia piaciuta e vi lascio le foto e se la realizzate mi raccomando mandatemi le foto che le condivido con piacere sulle mie pagine buon lavoro a tutti Musica Musica